Benvenuti a un nuovo episodio di Stories of Awakening Podcast. Oggi con me ho un'altra amica e collega che si chiama Veronica e l'ho conosciuta su Instagram tramite un'altra nostra collega più di un anno fa ora e siamo rimaste in contatto e oggi volevo condividere con voi la sua storia e quello che fa come mestiere. È una persona che mi ha ispirato tanto nell'ultimo anno e mi ha aiutato tantissimo in diversi momenti della mia vita e sono sicura che la sua storia ispirerà anche voi e potrà aiutarvi in qualche maniera. Ciao Vero, come stai oggi? Ciao Vale, grazie mille per avermi invitata. È un'emozione per me essere qui con te, sono veramente, guarda, molto molto contenta di poter condividere di più sulla mia storia e anche di come ci siamo conosciute, di come abbiamo continuato a coltivare questa relazione e quindi grazie, grazie mille. Grazie a te per essere qui. Vuoi parlare di te, della tua storia? Questo podcast è appunto Storie di Risvegli, se vuoi parlare del tuo risveglio so che la tua storia è molto diversa dalla mia, quindi è anche bello secondo me far vedere alla gente che non c'è un modo unico per capire queste cose, siamo arrivati da due diciamo background completamente diversi e siamo arrivati alla stessa conclusione. Quindi inizia da dove vuoi, vai, libera. Sì, anche se appunto ci pensavo, ci pensavo giusto prima quando chiacchieravamo, prima di mettere play, che in realtà abbiamo tantissime cose in comune, no? Se ci pensi siamo tutte e due nate e cresciute in un paesino piemontese e non ci eravamo mai connesse prima, tutte e due siamo state a Londra, anche io sono stata a Londra molto meno di te, ovviamente. Sono stata un annetto, quindi non ho vissuto Londra quanto l'hai vissuta tu, però ecco abbiamo fatto lo stesso corso di formazione più recentemente, quindi ci sono tante cose che ci accomunano, ma credo che comunque la nostra storia sia diversa e anche l'approccio magari verso nuove, nuovi modi di vedere la vita, nuove filosofie, quello appunto di cui ti occupi tu e di cui mi occupo io, alla fine poi ha preso diciamo sfumature diverse per ognuna di noi e penso che sia la bellezza, no? Ne parlavo anche ieri con altre due ragazze che fondamentalmente possiamo tra virgolette risolvere gli stessi problemi o aiutare le persone per lo stesso problema ma in modi diversi, no? Con strumenti diversi e attraverso anche la nostra esperienza personale che è unica, no? È diversa tra tutti. Quindi vabbè, questo per dire che io sono una mindset coach esperta nella manifestazione, quindi mi piace tantissimo parlare di leggi di attrazione, leggi universali, processo di manifestazione, che cosa vuol dire e appunto come te ho fatto questo percorso che mi ha dato tantissimo, cioè sono decisamente un'altra persona da quando appunto ho terminato questo percorso con Yes Supply, un sacco ci hanno dato nel corso, nel percorso un sacco di tecniche molto utili per andare a lavorare sulla riprogrammazione delle credenze limitanti, dell'identità, delle abitudini e aver usato queste tecniche in prima persona mi fa davvero capire il potere dell'inconscio e di come parlare e di come andare appunto a riprogrammare le nostre credenze inconsce sia fondamentale per manifestare la realtà che vogliamo vivere. E quindi ecco, la domanda era partita da dove però? Era dalla tua storia, sì sì diciamo, sì sì la tua storia, no comunque grazie per aver condiviso questo perché non avevo pensato in effetti che ci sono tantissime cose in comune, il fatto che siamo piemontesi tutte e due, che abbiamo fatto lo stesso percorso di coaching e che abbiamo vissuto all'estero nella stessa città tutte e due, sì è vero hai ragione, ovviamente siamo ecco forse i punti di partenza sono stati diversi ma è vero abbiamo molte molte somiglianze. Sì, allora sì sì abbiamo un sacco di cose in comune e tra l'altro pensavo anche che anche tu giocavi a pallavolo, anche io ho giocato a pallavolo, quindi ci sono brava, adesso lo ammetto, probabilmente tu eri più brava di me, non ero una delle migliori però insomma era lo sport che aveva fatto mia mamma quando era ragazzina e quindi io e mia sorella abbiamo giocato a pallavolo per diversi anni, più o meno tutti gli anni delle medie e un po' di anni del liceo se non mi sbaglio, quindi comunque questa cosa anche c'è. Wow, sai che non ci avevo pensato neanche questo, grazie per avermi ricordato, me l'avevi detto ma non ci avevo più pensato. Eh sì sì, perché io tutto questo poi tra l'altro quando ho ascoltato il tuo primo episodio ho detto ah wow quindi effettivamente è vero anche lei ha giocato a pallavolo, anche lei insomma ho rivisto anche parte della mia storia quindi è bello. Pazzesco, bellissimo, grazie per avermelo ricordato, una vita parallela praticamente. Esatto, esatto, comunque allora vabbè, la mia storia, da dove parto io? Intanto io sono, ho una sorella gemella, ecco partiamo da questo da questo dettaglio che spesso sul mio profilo non parlo abbastanza e quindi penso anche che parte della mia infanzia, parte della mia vita sia stata per un periodo molto lungo quindi per tantissimo tempo collegato alla vita di un'altra persona. E già questo come come secondo me visione del mondo è un po' unica in parte no? Perché fondamentalmente non ci sono la percentuale di chi ha un fratello gemello e minore no? Rispetto alla maggioranza delle persone. Però vabbè niente, io e mia sorella siamo nati quando mia mamma aveva vent'anni quindi molto molto giovane e in questo paesino di provincia di Torino e mia mamma ci ha sempre cresciuto anche un po' con il mito dell'America, un po' il sogno americano perché mia mamma quando aveva 16 anni si è trasferita in America, ha vissuto un anno in America e da lì diciamo lei ha sempre avuto questa passione di viaggiare, ha avuto questa idea di un giorno trasferirsi all'estero, ha fatto la modella per un periodo e quindi viaggiava molto di più e diciamo che dentro di lei c'era questo desiderio di appunto vivere una vita, uno stile di vita che le permettesse di viaggiare. E quindi ce l'ha un po' passato come voglia di espandere un po' la nostra mente andando all'estero, facendo cose, viaggiando sempre di più, anche appunto noi abbiamo iniziato a lavorare nel campo della moda sicuramente supportate ecco dalla figura di nostra mamma e dove passo poi a dire queste cose? Cioè voglio un attimo dire le cose fondamentali. Un'altra cosa ecco che in questi anni dell'infanzia, della giovinezza comunque, ma sono stati anni in cui mi sono sentita spesso insicura, cioè avevo sempre un po' questo senso di insicurezza, questo senso di non essere mai abbastanza, questa idea di avere tantissimi sogni, ambizioni, ma di non poterli al cento per cento realizzare perché mi mancasse qualcosa, no? Perché non fossi una persona abbastanza, non so, disciplinata, piuttosto che sicura di me, ero sicuramente molto più insicura di adesso come persona. E vabbè, penso anche l'ambito della moda, ma sicuramente è stato soltanto un po' il momento in cui si è manifestato. Ho sofferto anche tanto di disturbi alimentari, quindi c'è una gran parte della mia vita in cui io vivevo e non vivevo. Cioè me lo ricordo un po' così, no? Come una specie di trans in cui vivevo tutti i giorni, però dentro di me c'era la fissazione del corpo, la fissazione del mangiare, però non poter mangiare, è un po' tutto lo sfogo, diciamo, dovuto a questa tendenza, no? Ovviamente ero molto... penso che una delle emozioni che caratterizzava quel periodo era il senso di colpa, la vergogna, che come sappiamo, no? Sono tutte emozioni che vibrano a bassissime frequenze. E quindi, boh, quel periodo della mia vita, seppur... ecco, io ho letto The Secret e ho letto libri di crescita personale, di spiritualità, quando avevo 15 anni, 13, 14, 15 anni, più o meno. Tutto questo grazie a mia zia, cioè mia zia è sempre stata quella che ci portava libri, concetti, cose di questo tipo, e quindi, boh, da lì si è aperto un po' questo mondo per me. Praticamente nei miei anni, i primi anni comunque di giovinezza, eccetera, io già conoscevo queste filosofie, questo modo di pensare, però ecco, adesso devo guardare che cos'è che all'epoca mi impediva di manifestare la mia realtà ideale, essere appunto, attrarre cose nella mia vita, era perché fondamentalmente stavo vivendo continuamente in queste basse vibrazioni, ma di appunto vergogna, senso di colpa, e non andavo, non sono andata in profondità a capire, ok, vuoi queste cose, ma se continui a fare, a vivere la vita in questo modo, c'è un dislivello, no, di, come dire, di vibrazioni. Sì, perché, grazie per aver condiviso tutto questo prima di tutto, e volevo solo dire una cosa, sì, infatti penso che sia importante quando le persone si avvicinano ai principi della manifestazione, eccetera, che c'è proprio un lavoro interiore da fare, ecco, quindi non è solo sapere i concetti e pensare a qualcosa e subito succede, ma è davvero un lavoro interiore di crescita personale prima di tutto, e veramente rilasciare tutte le cose appunto che non servono più per far spazio a quello che poi si vuole davvero. E penso che appunto anche all'inizio, quando ho letto io queste cose, che per me è stato solo un paio di anni fa, e penso che qui sia anche una delle nostre differenze, diciamo, della nostra storia, non era chiarissimo, ecco, ho dovuto poi fare un po' di pratica e capire come queste cose funzionavano. Comunque interessantissima la storia tua e io mi sono sempre chiesta, tra parentesi, come fosse avere una gemella, quindi posso chiedere a te adesso queste cose, non te l'avevo già detto, però sì, deve essere anche quella un'esperienza unica, e anche tua sorella, Ren, comunque tutte e due imparavate queste cose, ecco. Sì, sì, tantissimo. Ecco, tra l'altro quando mi chiedono com'è avere una gemella, la mia risposta è io non so com'è non averla, perché è vero, è strano, no? Nel senso che siamo io e lei, abbiamo in realtà anche un fratello da parte di nostro papà, che però è molto più piccolo di noi, quindi non l'abbiamo vissuto, non l'abbiamo vissuto, diciamo, come ci siamo vissute io e lei, ecco. Però per me io non so davvero cosa voglia dire vivere una vita senza una gemella, e ogni tanto ovviamente crescendo poi ognuna prende strade diverse, adesso tra l'altro viviamo insieme, quindi siamo un po' ritornate alle origini, però noi abbiamo veramente vissuto una vita, ecco, forse fino ai 20, 22 anni, 23 anni, dormivamo nello stesso letto, cioè noi abbiamo proprio vissuto una vita quasi in simbiosi per la maggior parte della nostra esistenza, e obiettivamente penso che comunque separarci e trovare ognuna la sua strada e avere poi esperienze separate ci abbia sicuramente fatto bene, però ecco, avere sempre una persona al tuo fianco per me è sempre stato molto confortante, in altri aspetti però mi rendo anche conto che tante cose, diciamo che non sono, non ho avuto modo di probabilmente crescere come persona e far crescere anche la mia sicurezza nell'essere da sola, non so se mi sono spiegata, quindi avere questo senso di, ok, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, eccetera, sei da sola e stai bene, nel senso cioè puoi farcela anche da sola, per tanto tempo mi sembrava sempre di dover avere bisogno di qualcuno o comunque che da sola non ce l'avrei mai fatta, no? E quindi questo mi porta al fatto del, perché io sono nata a Londra, parte della ragione per la quale io sono nata a Londra e mia sorella per esempio nello stesso anno è andata a città del Messico, quindi siamo andate agli opposti della terra praticamente, era proprio per trovare questa indipendenza, per trovare questo senso di essere da sola e capire chi ero da sola, ecco, perché in quel periodo della mia vita mi continuavo a chiedere ma io chi sono? Io come Veronica? Chi sono? Cosa mi piace? Cosa, in che cosa credo? Era soprattutto legato a mia sorella, ma poi in generale, probabilmente quegli anni sono stati gli anni in cui poi un pochettino mi sono, tra virgolette, risvegliata, no? Perché appunto mi chiedevo ma chi sono? In che cosa credo io? Che cosa piace a me? E basta. E quindi sono andata poi a fare questa esperienza a Londra anche con questo desiderio, no? Di trovare un po' più me stessa. Guarda, ti capisco benissimo. Io sono da un punto di vista del figlio unico, quindi diverso, però anche io ho sempre avuto questa sensazione di solitudine, perché essendo nata figlia unica, ho detto ma sono sola, quindi ho avuto sempre questo stile di attaccamento ansioso, penso si dica in psicologia, dove appunto avevo bisogno sempre di, avevo paura di non essere in grado di sopravvivere ecco da sola. Però per me la cura, e questo l'avevo anche detto nel mio primo episodio, è stata veramente anche lì per me andare a Londra ed è successa la stessa cosa che è successa a te, e ha iniziato a capire chi sono io, che cosa voglio io, cos'è che piace a me, non quello che è la mia famiglia o l'ambiente in cui sono cresciuta, mi ha detto insomma, che dovevo fare o avere per essere felice. E lì è dove è iniziato tutto. Poi per me è stato un processo di parecchi anni, che si è velocizzato diciamo con la pandemia, però si è iniziato tutto anche a me diciamo da Londra, quindi possiamo dire che andare all'estero aiuta. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Per me l'esperienza a Londra è stata molto, molto, mi ha fatto aprire tanto gli occhi anche su cose di me che non riuscivo a lasciare andare, come per esempio il disturbo alimentare. Io sono anche andata a Londra con l'idea di cambiare il mio ambiente mi avrebbe cambiata, no? E se vale, sai appunto, cioè avendo fatto lo stesso, gli stessi studi sappiamo che l'ambiente in realtà è il livello della mente più esterno. Quando vai a cambiare solo l'ambiente ma non cambia la tua identità, non cambia quello che credi riguardo a te stessa, non cambia come ti senti nei confronti di te stessa, non cambiano le tue credenze, su te stessa e in generale sul mondo, non puoi avere un cambiamento duraturo. E infatti io sono andata a Londra con tutta questa motivazione di ok, sì, adesso inizierò a mangiare sano, smetterò di appunto avere ossessione nel mio corpo, vomitare, perché comunque per me era anche questo, era proprio bulimia, con l'idea di ok, andare a Londra è la soluzione, cambiare ambiente sarà la soluzione a questo mio problema e poi invece mi sono ritrovata dopo un mese neanche a rivivere le stesse cose, ad attuare gli stessi comportamenti, a sentirmi nello stesso modo, cioè il cambiamento è durato forse neanche due settimane, un mese, e poi mi sono sentita comunque sempre praticamente uguale a prima, e quindi lì, cioè io adesso facendo le riflessioni anche sul mio passato, riesco a capire quanto stessi agendo da una prospettiva un po' più superficiale, anche appunto a livelli della mente, sapere tutto questo, tutto questo mi ha aiutato a mettere un po' i puntini insieme, però sì, la motivazione che mi ha spinto ad andare a Londra era per risolvere anche questa parte di me, capire chi ero, al punto che mi sono tatuata un giorno così, lì ero per strada e ho detto boh voglio farmi un tatuaggio, e mi sono tatuata sul polsi, find yourself, questo era un po' il mio mantra, find yourself, find yourself, di trovare te stessa, di trovare quello che ti piace e quello che vuoi fare nella vita, trovare un po' la tua missione, era un po' questo che mi ossessionava, tra virgolette, in quegli anni, e quindi sì, hai detto una cosa giustissima, che in effetti forse non l'ho mai detto nel podcast, che è vero, si può cambiare 50.000 lavori, case, anche in azione, però ci sono dei pattern che continuiamo a portarci dietro, ovunque andiamo, e in realtà è molto utile cambiare anche, diciamo, la nostra realtà esterna, così riusciamo a renderci conto dei nostri pattern del nostro inconscio. Infatti, quando spesso mi chiedono come faccio a capire quali sono questi pattern, è veramente osservare la tua realtà attorno a te, perché si ripetono, io ad esempio avevo gli stessi problemi sul lavoro, indipendentemente dal tipo di lavoro che facevo, dall'ufficio, dall'azienda che cambiavo, erano sempre gli stessi, e questi andavano, ad esempio, a toccare il fatto di non essere sicura di me stessa, o il fatto di essere, sai, people pleasing, cioè, cercare sempre di far piacere agli altri, compiacere agli altri, invece di, insomma, avere dei sani boundaries, dei limiti, insomma, e farmi rispettare, quindi, assolutamente, come hai detto tu, sono lavori, diciamo, che bisogna fare dall'interno, per poi, vederli manifestati nella realtà esterna, giusto? E questa è la manifestazione alla fine. Sì, esattamente, sì, la manifestazione è proprio, almeno per me, è il diventare la persona che vive quella realtà, che attrae, non so, appunto, se voglio cambiare casa, se voglio attrarre l'uomo della mia vita, se voglio attrarre più denaro nella mia vita, se voglio, appunto, vivere un altro tipo di casa, proprio vivere un stile di vita diverso, devo prima diventare la persona che vive naturalmente, facilmente in quella realtà. E il 90% delle volte, appunto, se mi rendo conto che non sono ancora in quella realtà, che non ho ancora quello che desidero, è perché fondamentalmente non sono ancora pronta. Cioè, ecco, alcune volte mi chiedono, no, perché non manifesto quello che desidero, no, perché le mie manifestazioni non sono ancora arrivate. e io se devo riflettere su di me, sulla mia esperienza, seppur con tutta me stessa, magari desiderassi un determinato evento che accadesse nella mia vita, o anche semplicemente più opportunità lavorative, o più soldi, o una persona di un certo tipo accanto a me, e quando non ce l'avevo, è perché fondamentalmente non ero pronta. Cioè, ho anche adottato questa prospettiva di, ok, non hai raggiunto questo obiettivo, ma veramente eri pronta per riceverlo, quindi ti sentivi meritevole, eri proprio pronta a gestire, no, quella situazione, come mi immagino. Esatto. e quindi, ecco, secondo me, è questo poi fondamentalmente manifestare, capire dove ci sono ancora delle resistenze dentro di te, sia di credenze, sia di emozioni, di immagine che hai di te stessa, e andare a eliminare quello che non serve più, e installare quello che invece è in linea con la realtà che desideri, per poterla attrarre facilmente, per poter poi sentirti al sicuro in quella realtà. Esatto. Anche questo è un'altra componente, no, quando ottengo quello che voglio, ma poi è talmente non familiare, è talmente tanto rispetto a quello che, a cui sono abituata, che molto spesso me ne disfo, no, me ne libero, perché vado in stato di stress. Esatto. Infatti non è solo manifestare, che magari è capitato a tutti di manifestare cose che volevamo, ma non siamo riusciti a trattenerle, diciamo, nella nostra vita, nella nostra realtà, perché c'erano ancora, diciamo, delle, le posso anche chiamare vibrazioni, che non matchavano con quel tipo di realtà ancora. Esattamente. Sì, sì, questo è, ecco, e per me andare all'estero, quindi per tornare un attimo al discorso di Londra, non è stato utile per cambiare, cambiare qualcosa, cioè io non è che sono tornata da Londra ed era una persona diversa, tutta illuminata, eccetera, e mi è stato utile vedere quanti, appunto, come dicevi prima, quanti pattern continuavo a perpetuare nonostante il cambiamento di ambiente, no, perché ho cambiato lavoro, ho cambiato ambiente, ho cambiato lingua addirittura, ho cambiato praticamente tutto dal punto di vista esteriore, ma continuavo a ripetere determinate dinamiche, e quindi una volta tornata, in realtà, ho avuto chiarezza di che cosa doveva cambiare dentro di me e questa verità, diciamo, che avrei dovuto prima di tutto cambiare da dentro per ottenere nel mondo esteriore un cambiamento, no? e quindi ecco, da lì, diciamo, da quando poi sono tornata, ho approfondito sempre di più il mio percorso di consapevolezza e crescita personale, crescita spirituale, eccetera. Bellissimo, grazie, grazie per la condivisione. L'ultima cosa, guarda proprio, se dovessi dire una cosa che volevi, che hai manifestato, come esempio, diciamo, per far capire, appunto, alla gente come funziona, ne hai una che ti viene in mente? Allora, sì, il mio lavoro, non c'è, che anche qui non è stato per niente un dall'oggi al domani, non è stato assolutamente un qualcosa di, oddio, wow, che figo, l'ho pensato ieri, o l'ho pensato una settimana fa, e magicamente l'ho attratto nella mia realtà, no? è stato proprio un processo di giorno dopo giorno, anno dopo anno, capire sempre di più, intanto fare chiarezza su che cosa volevo fare, perché allora, quando io ho letto The Secret e avevo 13-14 anni, c'era una voce dentro di me, un'ispirazione dentro di me, mi ha fatto dire, ok, io voglio condividere sempre di più questi messaggi, io voglio essere un esempio positivo per le persone, questa era un po' la mia frase, diciamo, voglio essere un esempio, voglio essere di ispirazione, però a 13 anni non avevo minimamente idea di che cosa, di come si sarebbe manifestato, di come si sarebbe concretizzata questa mia volontà, questo mio desiderio di essere un'ispirazione, e quindi poi nel corso del tempo ho iniziato sempre di più a scoprire il mondo online, scoprire appunto la figura di un coach, scoprire persone che parlano veramente di questi argomenti, cioè perché ovviamente a 13 anni, soprattutto in Italia, non ho mai sentito parlare di manifestazione, leggi di attrazione, era qualcosa che leggevo nei libri, ma di cui non si parlava così tanto, no? Poi vabbè, non c'erano i social come esistono adesso, eccetera, però poi piano piano ho capito sempre di più che c'erano figure che ispiravano altre persone e facevano questa professione di lavoro aiutando fisicamente, cioè anche concretamente, le altre persone a raggiungere i loro obiettivi. e da lì poi piano piano si è sviluppata dentro di me la consapevolezza che un giorno avrei potuto fare anch'io questo e quindi da lì poi mi sono iscritta al primo corso di coaching, in realtà ho fatto un sacco di, prima di quello ho fatto un sacco di percorsi miei di crescita personale, women's circle, quindi ho iniziato appunto a capire questo concetto di sorellanza, a parlare sempre di più con altre donne, tra l'altro altre donne che volevano anche loro ispirare la community e creare un mondo migliore, eccetera, e da lì poi primo percorso di coaching, poi sempre di più entrare in questo mondo, entrare nel mondo di Instagram, capire come funziona, capire come funziona i social e fino poi ad arrivare ad oggi che mi sento quella persona, non è più lontana da me, è un qualcosa che lo vivo nella mia quotidianità, cioè per me per aprire il mio podcast e raccontare la mia storia, se penso alla versione di me 25enne anche solo o anche solo 27, anche solo due anni fa, non avrei mai avuto il coraggio di farlo, non avrei mai avuto la, non sarei neanche riuscita a gestire quello che voleva dire condividere in maniera autentica, in maniera vulnerabile di aver sofferto dieci anni di disturbi alimentari, per esempio, era un qualcosa che non ero pronta a fare e quindi sono, ho lavorato su me stessa sempre di più per poter diventare quella persona e questa è un po' l'idea di manifestare per me. Assolutamente, è molto simile a me, ho sempre saputo che c'era qualcosa di diverso che volevo fare ma non pensavo fosse possibile, a me mancavano proprio le conoscenze, non avevo, a me è sempre stato detto non c'è una ragione per niente, nel senso tutto capita casualmente, così sono cresciuta, questa era l'idea con cui sono cresciuta io e quindi non pensavo di poter, non pensavo di poter in realtà avere la realtà e tutto quello che volevo, dicevo boh, è andata così, la mia vita è così e boh, l'accetto. a me è stata proprio la conoscenza di questa possibilità che mi ha dato la forza di cambiare, di fare tutto il lavoro che era necessario per togliere tutti gli strati che non erano miei, tutte le idee, i valori, le credenze che non erano miei per diventare insomma quella che ero destinata ecco, diventare. Capito, sì. Bene, è vero. Grazie mille per il tuo tempo. Ci sono stati qualche problema di connessione, spero si senta bene, ma grazie davvero per il tuo tempo. Se vuoi dire a chi ascolta questo podcast come ti possono trovare, dove ti possono trovare, se ti vogliono contattare poi metterò anche i dettagli nelle note di questo episodio. Ma hai anche tu lanciato un podcast, da non molto con la tua storia in cui vai molto più in dettaglio e insomma dici quello che fai quindi di pure dove ti possono trovare Instagram, email, eccetera. Sì, il posto principale diciamo è quello dove poi racchiude tutto è il mio profilo Instagram che è Veronica Testa Coach e poi appunto c'è il mio podcast che si chiama The Magic scritto con la K podcast dove racconto un po' di più appunto la mia esperienza, la mia storia nel dettaglio sono già usciti due episodi sulla mia storia e tutto quello che faccio insomma tecniche, il processo di manifestazione, leggi universali, eccetera. Quindi se volete saperne di più vi trovate al mio profilo Instagram Veronica Testa Coach ci sono tutti i link quindi trovate tutto insieme. Grazie mille, vero? Grazie per essere stata qua e grazie a voi per aver ascoltato. Alla prossima, ciao! Grazie Vale, ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti